Si è conclusa con un armistizio di tre mesi l'Assemblea dei Socii della Teramo Ambiente, la partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani e che il Comune di Teramo controlla al 51%. La notizia più importante è che è stato trovato un accordo per valutare l'esigibilità dei crediti di circa 4 milioni di euro che la Team vanta nei confronti del Comune. L'attuale governance ha accettato di ritirare la richiesta di arbitrato in tribunale e ripiegare su un tavolo tecnico. Il Sindaco d'Alberto ha concesso loro tempo fino al 28 febbraio per avere approfondimenti sul piano industriale dell'azienda e le conseguenze economiche determinate dall'aver perso l'appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Termoli. Un'assemblea impegnativa che è convocata su richiesta del sottoscritto quindi del Comune di Teramo per affrontare in primo luogo la questione dei rapporti di debito e credito con la Teramo Ambiente. Un'assemblea che era già stata convocata e che è partita ovviamente con una riflessione su questa scelta che abbiamo giudicato anomala, assolutamente non condivisibile, di convocare o di richiedere un arbitrato per la soluzione dello stesso problema, visto che c'era già stata la convocazione. Pertanto abbiamo con gli altri soci condiviso e concordato che si deve arrivare alla soluzione di questo problema che purtroppo abbiamo ereditato dal passato, che dobbiamo però necessariamente risolvere per l'interesse del Comune di Teramo e della Teramo Ambiente attraverso una mediazione che consenta di abbassare la conflittualità, i toni e cercare di dare un futuro alla Teramo Ambiente. E la governance resta? Oggi non era l'oggetto del contendere, diciamo così, oggi era una questione relativa più che altro anche al futuro della società. Noi abbiamo chiesto nel corso di questa settimana una serie di atti, di documenti, che sono finalizzati a valutare complessivamente l'azione, l'operato della società all'esito di questa verifica, di questo controllo. Sicuramente ci sarà una riflessione anche sulla governance, non era oggi il tema, diciamo così, oggetto dell'Assemblea. È chiaro che noi oggi abbiamo una situazione di incertezza enorme, abbiamo ancora una situazione di precarietà dettata anche dal fatto che il socio privato si trova ancora in una situazione di corratella fallimentare e quindi c'è una procedura fallimentare che si intreccia rispetto alla procedura, diciamo così, amministrativa. E anche questo è stato un tema discusso nella giornata odierna e i soci consapevoli della complessità del tema hanno deciso appunto di procedere ad un approfondimento su quella che è la situazione complessiva del quadro normativo perché non si può sbagliare. Grazie.